Salve ragazzi, ci sono personaggi che fanno video ogni quattro ore, ogni due ore fanno un video io faccio ogni tre giorni, quattro giorni, vabbè va tanto diverso io non sono come loro che cerco sponsorizzazioni per guadagnare soldi da youtube io ti dico solamente iscriviti al canale se vuoi iscriverti canali smerci, area max, area a parte tu ti iscrivi, ti segni, ti guardi i miei video, ti vedi le live e ti vedi, ah, so c'è anche la live trasmetterò Nissa, Napoli Nissa, Napoli Nissa, Napoli Nissa sarà trasmessa in diretta sul canale, su area max su area max ti iscrivi e vedrai Napoli Nissa, premiera di champion league se ti va ad iscriverti, potrà vedi se la vedi tu, non solo questo, ma farò un live, più avanti faremo live proprio dal vivo noi io parlerò con qualche dono, insomma, ti metteremo in diretta tante belle, ci stanno tante tante belle cose che sul canale offro offro, ok, la Juve, la Juve adesso gioca fra qualche gioco gioca la Supercoppa contro la Lazio che Juve sarà? che Juve sarà? che Juve sarà? non lo so, sinceramente non lo so, raga visto che abbiamo fatto questi amichevoli e abbiamo preso dei gol imbarazzanti, specialmente dei gol imbarazzanti gol che manco una squadra di serie B prende, veramente se siamo fatti infilare, anche dice, ah, sono amichevoli uno dice, ah beh, la preparazione, tutte, sempre le solite menate, no? le scuse, cerchiamo sempre le scuse noi, no? quando magari facciamo schifo, ok? cerchiamo sempre delle scuse non è che si ammette proprio, è un fatto schifo no, è un fatto schifo ammettelo, ammettilo, abbiamo fatto schifo abbiamo fatto delle partite, un po' di merda abbiamo fatto diciamolo, come sempre perciò, che partita sarà quella contro l'Alasio? non lo so è un punto interrogativo è un punto interrogativo, ragazzi è un punto interrogativo perché io, quest'anno la Juve l'ho detto non è né carne né pesce, secondo me anche se molti pensano ah, ma non faremo no, ragazzi, io non sono convinto non sono convinto e io la sento questa Juve è come la finale del Cardiff la sento così perché io, vi ricordate quando tutti quanti, eufolici, abbiamo vinto la Champions tu, tutti il 90% tutti quanti abbiamo vinto la Champions vinciamo noi e io lo dissi e dico ragazzi io non sono così convinto ho detto sentivo che qualcosa puzzava sotto io ci speravo come ho detto però sentivo che c'era qualcosa che puzzava che non mi quadrava e così è stato e io sento quella cosa qualcosa che puzza qualcuno ha cagato sento capito qualcosa che puzza sotto non la vedo questa Juve quest'anno com'è capito non la vedo veramente non la vedo magari mi sbaglierò ma non credo difficilmente mi sbaglio e niente vedremo un po' costa Lazio la Lazio certo l'altro anno Coppa Italia abbiamo vinto abbastanza bene insomma è stato se vede che la Juve era propensa con l'entusiasmo di aver vinto già il campionato con l'entusiasmo di essere arrivata in finale del Champions è una squadra che giocava spensierata in quel lato là capito poi quando gioca col pensiero magari si è cagamano perché funziona così anche la Coppa Italia magari la prende un po' certo giochi con la Lazio non giochi con con squadre votate capito giochi con la Lazio è una squadra buona squadra ma niente di che la Lazio insomma ha buoni giocatori ma non è questa squadra che potrebbe pensare a noi però quest'anno la vedo veramente molto molto diversa la cosa è diversa non lo so io io ho calcolato io quest'anno arrivo a terza in classifica terza prima io vedo primo il Napoli secondo il Mila è terzi noi terzi noi terzi poi Inter Roma e benicendo però io vedo molto il Napoli il Napoli molto favorito lo vedo favorito e il Mila pure pure il Mila è una squadra che darà affidatori a un sacco delle squadre perché il Mila è entrata nell'entusiasmo perché hanno comprato bei giocatori anche se qualcuno dice ma chi c'ha il Mila no il Mila c'ha bei giocatori c'ha un allenatore capace c'ha un allenatore competente uno due so due so due ha preso Bonucci ha preso Bonucci proprio apposta Bonucci l'hanno preso apposta capito come ecco perciò ho detto tutto queste sono tre cose fondamentali allenatore competente che noi non abbiamo non è competente Bonucci che farà la parte di quello che darà tutte le informazioni guiderà la situazione in modo che non per niente l'hanno fatto capitano per farmi capire ci sarà un motivo insomma gli danno quell'importanza che è giusto tagli e poi la società che sgancia i soldi a a Google che non si crea problemi papapà compramo questo compramo quello forse arriva pure Ibra Imoci anche se Ibra Imoci è in fase calante però sempre è un campione che ha esperienza e può dare male poi ricordate una cosa dove va Ibra Imoci se vincono i campionati eh raga dove va Ibra Imoci tutti tutti l'ha vinti dove ha andato ha vinto un campionato lui sempre giusto quello con l'Inghilterra l'ultimo con il Manchester però l'Arti l'ha vinti tutti tutti l'ha vinti ok comunque non lo so chissà staremo a vedere vediamo che altri colpi farai io mi hanno dato a numero 10 a Dybala gli hanno dato per dargli quell'importanza o magari per farlo alzare prezzo con la quotazione di prezzo magari come ho detto 140 milioni ma in chiara vabbè io sono sempre convinto una cosa Dybala secondo me se devi vendere se devi vendere per il prezzo che hanno offerto poi 120 milioni così ho sentito o se no 80-85 milioni più Kovacic del Real Madrid se va al Madrid capito non sono pochi e Kovacic secondo me è un bel giocatore allora allora ricapitoliamo niente ragazzi allora il 16 ci sarà Napoli Nissa noi le trasmetteremo aria max canale il magic ora vedete il link se volete iscrivervi per vedere questi e altri eventi sportivi più avanti certo non è che trasmetterò le partite sempre ogni tanto qualche partita verrà trasmessa dipende dall'andamento ecco dipende dipende poi una cosa agli iscritti perché io faccio questo spot lo faccio adesso lo faccio per la partita lo faccio per la partita e poi lo farò per la partita del Napoli farò poi un video sul Napoli con il Nissa trasmetterò un video dopo la partita dopo che essere stata trasmessa in diretta sul nostro portale la comunicazione sarà questa che i prossimi eventi e tutte le cose che verranno postate avanti verranno tutte date in comunicazione date in comunicazione agli iscritti vi arriverà la comunicazione perché ho tutte le vostre mail vi arriverà la comunicazione sulle vostre mail che ci sarà l'evento a tale ora e chi vorrà vedere l'evento chi è iscritto lo può guardare chi non è iscritto se vuole si può iscrivere se no come ho detto noi offriamo noi del sito insomma il mio sito poi con i miei collaboratori offriamo tante tante belle cose e penso che dai primi di settembre insomma adesso siamo ancora ragazzi stanno i vacanze la gente pensa altri cazzi c'ha poco da guardare magari meno da guardare su internet o tutte queste cose qua però io tanto lo dico perché ho visto che molti iscritti si sono disiscritti da youtube da mister questo canale molti sono disiscritti per passare direttamente all'area max canale magic si stanno iscrivendo lì moltissime persone si stanno iscrivendo lì a pagamento molte io sono veramente molto molto contento che tante persone si stanno iscrivendo perché bene o male insomma sto dando un servizio loro sono soddisfatti sulla chat scrivono c'è la chat aperta mi scrivono sono contento sono felice io sono felice di dare un buon servizio questo è quello che conta per adesso sono solo chiacchiere chiacchiere una cosa non ho più a che fare con i coglioni con gli acre con la gente del merda con questi coglioni che scrivono mintiate questi che scrivono mintiate non ci stanno più canale è bello pulito limpido perciò quelli che prima scrivevano qua scrivono mintiate ah se questo se quello babbabbababab c'è una buca tappata non parli più, i pollici questi che fa così, metteteli al culo perché tanto non lo vede nessuno il pollice in giù o su o giù non li vede nessuno perciò metteteli al culo i tuoi pollici perciò tu, se vuoi seguire il sottoscritto passa a Canary's Magic entri in area max e ti iscrivi se vuoi vedere gli eventi, vuoi vedere i video vuoi vedere tante belle cose fa un po' come cazzo di mare, io non ti devo costringere a iscriverti, però se vuoi avere tanto e usufruire tanto, poi 24 euro non sono un cazzo poi se 24 euro per te sono tante mi dispiace, non posso fatte niente ok ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video penso ci vedremo sicuramente a Juve Juve Lazio e poi dopo Napolinista ci vediamo, questi sono i due video quelli che sicuramente farò perciò ragazzi, come ho detto, l'evento Napolinista trasmetteremo in diretta chi si vuole iscrivere, chi si iscrive, chi non si vuole iscrivere non ha problema, ok ragazzi io vi saluto sempre forza Juve sperando che la Juve quest'anno non dico niente tanto, ci ho detto io, la vedo terza la Champions League ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima